Giù faccia a terra! Faccia a terra! Sono arrivati i fanchi dell'antiterrorismo e li ho disposti sui tetti. Altre novità? No, nessuna novità. Hanno rinnovato l'ultimato. Ingoiala. Ma stai a scherzare? Ho detto ingoiala! Ma io ingoio sì. Che si credi? Guarda, eh? Falla tacere, mi dà sui nervi! Diggli di smettere! Diggli al ragioniere di merda! Creiamo una squadra speciale. Una squadra che, autorizzata dalla magistratura, possa combattere la delinquenza con maggior libertà. Ma come mai non l'hai fatto fuori quel cornuto di poliziotto? Come mai? Perché quando lo farò fuori me dovrà guardar faccia. Me dovrà guardar faccia e tremar de paura. Ma certo, dovrei fare come te. Ma non ti rendi conto che stai diventando un kamikaze della violenza di Stato? Torniamo ai vecchi metodi, ti dispiace? Aio! Aio! Se lei mi salva, io le passo un'informazione preziosa. Mi riguarda Ferrender. Cosa? Lei non sa che Ferrender... Oh, come te chiami te? Oronzo. Ah, Oronzo, tu non fai lo stronzo. Cosa vuole? Mi lasci, mi lasci! No! Aiuto! Lasciatemi! E' tua questa? Di tua sorella! Vigliacco! Vigliacco! Se far bravo ti faccio toccare pure Agop. Dai, tocca su. Tocca che ti porta bene. Ti ringrazio. Ma io a queste cose non ci credo. E fai male. Molto male. Se non è bicarbonato, sei fregato, Moletto. Guarda che qua la roba non è mia. Qua la roba non è mia. Qualcuno ci ha ammesso. E intanto veni con te. Mettilo sotto, che aspetti? No! No! Apello! 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 Oh! Grazie.